I primi cittadini dell'Alta Padovana uniti per salvaguardare i servizi sociali. L'incontro tra i primi cittadini del distretto 4 dell'USL 6 ha trattato il problema dell'aumento delle quote per la delega dei servizi sociali. Tutti e 28 i sindaci dell'ex USL 15 firmeranno un documento unitario proposto dal presidente Alessandro Bolis, che entro giovedì sarà spedito alla regione e al direttore dell'USL 6 Ugania, Domenico Scibetta. Nel documento c'è la richiesta urgente di un incontro, bisogna trovare 4 milioni di euro per mantenere i livelli di assistenza sociosanitaria che sono stati giudicati due anni fa i migliori d'Italia.